Oggi voglio parlarti del nostro modo di lavorare. La nostra agenzia ha come obiettivo quello di accompagnare il cliente dal momento in cui decide di vendere o acquistare un immobile fino a rogge tonotarine e spesso anche oltre. Per questo saremo lieti di diventare il tuo unico riferimento verso il mercato immobiliare. Il nostro bacino di acquirenti sarà più ampio grazie anche alla condivisione e collaborazione con tutte le altre agenzie. Per vendere prima il tuo immobile utilizziamo, oltre ad una vetrina curata e visibile e collocata proprio nel centro del paese, una bacchaca aggiuntiva in posizione strategica e la pubblicazione su principali social Facebook e Instagram, con sponsorizzazioni mirate e il nostro sito costantemente aggiornato. Ma il nostro punto forte sono due tecniche di marketing innovative. Il video marketing immobiliare, la tecnica di marketing che crea video emozionali e coinvolgenti, aumentando la possibilità di vendita, e l'homesaging, la strategia che aiuta a vendere in minor tempo mantenendo il prezzo. Offriremo tutta la nostra serietà e la nostra chiarezza per supportarti nella scelta del tuo immobile, dandoti tutte le informazioni necessarie e fornendoti gli strumenti per valutare quale sia la soluzione più adatta a te. Ti accompagneremo in tutte le fasi della compravendita e potrai avere un valido supporto anche in fase di proposta d'acquisto che verrà redatta direttamente presso la nostra agenzia, concordando le condizioni migliori di compravendita. Vieni a scoprire il nostro metodo di lavoro direttamente in agenzia, ti aspettiamo!